È ufficialmente Halloween, Grax in versione hit col kiwi giallo, siamo su Brawl Stars e sì, finita la vecchia stagione di potere, ringrazio ancora Yoshi e Pandex per le 6.000, vi faccio vedere che ha 6.000 punti stellari nei messaggi, seguiteli su Instagram, torneranno questa stagione pausa, nuovo team con Zanieri e Pandino, li trovate in descrizione e sono sempre presenti in live, sono abbonati storici del mio canale, quindi voglio provare questa stagione con loro, tra l'altro stagione tutta nuova perché sarà tutta quanta 3B3. Altra cosa ragazzi, prima di iniziare vi voglio ringraziare per la zombibi, mi avete distrutto Instagram, spaccato Instagram di tag, ne ho ripostate tante, seguitemi su Instagram, taggatemi su Instagram se ancora non l'avete shoppata, oggi la prendiamo, 80 gemme, 80 like, iscrivetevi, campanella e codice GRAX in the shop. Assedio, è ritornata anche l'assedio, dobbiamo cercare di partire bene, primo match, speriamo senza snipe, siamo contro Penny, Bombardino e Shelly, coppa abbastanza particolare, questo è tutto allenamento per la sfida che arriverà, credo in settimana a sto punto. Noi abbiamo predictato, probably, non sono sicuro, non siamo sicuri, potrebbe arrivare per Halloween, sarebbe spettacolare se vederla per Halloween, la sfida di rosa. Io spero ragazzi che arrivi il prima possibile, ma soprattutto spero di vincerla perché non possiamo perdere le spille, di rosa non ci interessa, la possiamo anche acquistare, ma le spille sono esclusive, quindi bisognerà per forza di cose, anzi per forza di cosa, rimanendo in tema rosa, portarle a casa. So tante, so fighe, so esclusive, molto molto tattiche. Qui però a fare una doppia ci sono riuscito, torno però indietro, io sto chiacchierando, mi faccio pure ammazzare, non mi voglio far ammazzare però, me so fatto, ammazzare. Grax, non se fa così, Grax, svegliate, se è una JG è abbastanza dinamica, devi giocare bene. Zaniere è molto molto top, io vado sulla parte destra, scegli per prendere un bullone, non dovrebbe darci problemi, anzi, devastante ragazzi, il piccolo Zan. Ah, mi scuso già con Yoshi e Pandex, se li nominerò praticamente sempre in tutti quanti i match, anche se non giocano perché il mio disco va in loop, me li sogno anche de notte. In realtà sono Pandino e Zaniere, ricordiamoci questo. Robottone che va verso il centro, l'inizio sembra abbastanza tranquillo, vediamo se riusciamo a fare un perfect, penso di sì, anche se Shelly e Bombardino col gadget riescano a difendere molto molto bene. Zaniere va di ulti, basterebbe creare l'ultimo robot e dovremmo essere abbastanza tranquilli. Bombardino grappato, diciamo che l'inizio è sexy, tra l'altro altra cosa importante, la sedia è diversa rispetto a prima. Ora i bulloni dovrebbero spawnare su punti fissi, su delle zone fisse, io li vedo sempre un pochino diversi, però credo che sia una a destra, una a sinistra e una al centro, tripla lane precisa. Intanto vado sul Bombardino, voglio far morire Pandino, non mi tacciare il Pandino. Occhio alla Penny, occhio alla penna, perfetto. Bullone, bullone, mancano ancora un po' di secondi, abbiamo un robot di livello 13 che spaccata e brutto, che attacca e andiamo a prenderci. Easy, la cassa al 100%, c'ho anche Ergadget, 3, 2, 1, se sono fermati, questo è un inizio molto good, vai di danni, schiacciante! Buona la prima, andiamo con la seconda, non vi posso far vedere il pronto, entriamo direttamente in partita. Ragazzi faccio una scommessa, se vinco tutte e tre, se vinciamo tutte e tre le partite, lo zio Grax, questa è una promessa, vi apre due casse enormi. No, non mi dite che snipe, è impossibile che snipe, ma non posso non sniperarla, ma it's impossible boys! Vi apro due casse enormi, oltre alla Zombibi, perché mi sento fortunato, oggi ho fatto una mare di coppe, con Zombibi arriveremo anche ad 850. Mi sento ispirato, due cassette, se ci dice bene, becchiamo magari Ember, tanto per tenerci bassi come predict, eh! Ma io sono sincero, forse prendiamo la cassa, no, qualche danno lo faccio, torno indietro però adesso, in realtà si può da fare la cassa, sì regà! Io vado sulla cassa, c'è bravo! Qualche danno! Seriously? 2%! Jackie riesce ad andare sulla cassa con Gadget, sapete regà che non lo so? Non vorrei farmi ammazzare, non mi sono fatto ammazzare per poco? Mo' come minimo lo andiamo a perdere, immaginate, sarebbe una cosa fighissima, non è vero, sarebbe un'umiliazione pazzesca, nessun robo fatto. La stiamo pareggiando, torna mai che lo tolgo io, Bombardino! E' arrivata la ulti, con la ulti di Zan l'abbiamo chiusa, 66, andiamo anche con la terza. Se la vinciamo, due casse più la scioppata. C'ho anche i 400 gemme, quindi sto messa abbastanza bene con le eventuali scioppate future. Ma come fanno a snapperare, raga? Senza la possibilità di snapperare, ma è possibile! Secondo me è qualcuno che vuole vedermi aprire le casse, buttiamola su sto fatto. Vogliono vedermi trovare Ember, quando io in realtà non vorrei trovarla adesso. Mi vogliono vedere trovare Ember, quindi niente, troveremo Ember con le prossime casse. E faremo anche un bel 99, molto sexy il 99. Grazie Leonnino, occhio al bombone, da una Mike Defend, ulti meravigliosa di Zaniere. Però torno indietro perché adesso la cassa ritornerà a sparare. Ci vuole un'altra ondata per portare a casa il 100%. Bullone che prendo io, Leon, te voglio bene, grazie del supporto. Io volevo sfoggiare la mia Jackie super arrabbiata, non la posso far vedere perché mi stanno a snapperà anche con l'anti-snipe. Di livello 7, il 7 è il numero massimo di ogni cosa. Sta botta, ragazzi, ci puscio, spero che non ci facciamo ammazzare. Perché io voglio andare ovviamente a chiudere il tutto e provare la zombie B. L'ultima skin del make disponibile. Cassa, ragazzi, che si scioglie. 99! E direi che come inizio va più che bene. GG al nostro team. Zaniere e Pandino li trovate al primo e al secondo link in descrizione. E rimarranno per tutta quanta, la stagione per tutti quanti i video. Classic 99. Le casse le prendiamo dopo perché prima, saluto intanto il team, mi prendo al volo il Pandex. E vado a fare una partidozza molto chill con Bibi. Sfruttando ovviamente la star power. Codice Crax. Ma in versione zombie B. Mamma mia, rega, che skin! 80 gemme! Pazzesca! Poi ho fatto caso anche a una cosa. Quella proposta da Kent aveva il busto scheletrico. In questa versione di Bibi c'è la t-shirt. Prendo Pandex. C'è stato un taglio, ragazzi, non ci fate caso. Ci basta un semplice più 7 per chiudere. Forse anche un più 4, ma il più 4 non si può fare. Non è che sia la miglior mappa per la Bibi, sono sincero. È una mappa abbastanza cringe. Questa qua è molto aperta. Però magari Bibi con la velocità può compensare. Qua ci potrebbe essere qualcuno. Probably no. C'è uno in alto a destra. Lo possiamo schiacciare tipo a panino. Dipende tutto dal pande. Occhio che rinasce qualcuno dalla distanza. Chi è Penny? Giusto? Sì. Non dovrebbe essere un problema. Ma io alla Ems non mi posso avvicinare. Non mi posso avvicinare, ragazzi, alla Ems. È infattibile Ems. L'hanno potenziale, è diventata molto strong. Qualcuno crepa. C'è ancora Shelly, quindi con calma. Crax, non te ne passare. Buono il colpo. Zero coppie. Adesso bisogna cominciare a giocare. Io ho pochi power up. Sotto c'è un Bo. Non so con chi sia. Sandy sopra. Sto messo veramente malissimo. Bull e Bo. Non sono un problema. Credo. Se Pandex li tiene, diciamo, a distanza. Certo se il Bo incrementa la situazione e il push diventa problematico. Oh my god, che schivata sul Bo. Ma non è un Bo diabolico, quindi non abbiamo paura. Potrei andare sul Bo. Mamma mia che combo con il Pandex. Ottimo il gadget nuovo di Bull. Attenzione al gadget new di Bull. È stato molto interessante. Deve andare giù Bull però. Eh no, questa è una cattiveria ragazzi. Questa è una cattiveria per forza. Io non posso fare nulla se non tagliare in maniera obliqua. E andare verso l'alto sperando che il Corvo non mi pusci per i restanti 7 secondi. Perché se il Corvo ragazzi non mi puscia, io potrei tranquillamente far rinascere Pandex e prendere più i 7. Esattamente. Vabbè. Va bene così. De più non si può fare. Sono stato bravo ragazzi a tagliare al momento giusto. Abbiamo tolto di mezzo la squadra di Bobul. Chill. Siamo a 26.853. Le abbiamo vinte tutte. Quindi Crax va nel pass e prende due casse enormi. Ve l'ho promesso. Casse enorme punti energia e casse enorme normale. Prima prendo le monete. Poi la casse enorme normale. Che cosa uscirà? Lo schifo. Punti energia. Casse enorme. Riscuoti. Aspetto l'aprimi. Io mi sento che qui c'è uno schippetto luminoso. Faccio pure il no look. Non ci sta ragazzi. Ne abbiamo vinte tre. Ne apro un'altra. Però non vi ci abituate. Questa è l'ultima. Non c'è due senza tre. E poi basta. A posto. Abbiamo preso oro. Doppia zombie B. Codice Crax. Ringrazio il mio nuovo team. Zanieri e Pandi. Ringrazio Pandex per il push. Codice Crax. Un'altra volta. Like iscrizione e campanella. E un consiglio. Ciao belli. Ciao ciao. 80 like per la zombie B. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie a tutti.